Ad un anno dall'intesa fra Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura e Comune di Pesaro per rifunzionalizzare Rocca Costanza in sede dell'Archivio di Stato e del Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, ecco alcuni eventi culturali che vedono Pesaro, Amat e la stessa fondazione celebrare gli eclettici artisti di talento istrionico che hanno segnato la storia del teatro del secondo novecento, nonché esempio di impegno civile e politico. La valorizzazione di una giornata importante, quella internazionale del teatro, proprio all'insegna della Fondazione Fo e Franca Rame e quindi partono i primi appuntamenti di quello che già a tutti i livelli è una collaborazione in essere. Primo appuntamento domenica 26 marzo alla Chiesa dell'Annunziata con l'usanto Iullare Francesco con Mario Pirovano. Oggi lanciamo questo programma che abbiamo chiamato Insieme Vive il Teatro che inizierà il 26 marzo con uno spettacolo di Mario Pirovano che è l'usanto Iullare Francesco in occasione per ricordare il compleanno di mio nonno Dario che sarà il 24 marzo e poi ci vedremo il 27 marzo invece per questa chiacchiera, questa conversazione in cui lanceremo i programmi, i progetti che abbiamo in mente con il Comune di Pesaro e dove si parlerà dell'importanza di fare per ricordare perché la memoria di Dario e Franca rimanga viva attraverso dei progetti che li continuino a portare tra la gente. Il 29 maggio, che sono i dieci anni dalla scomparsa di Franca, Valentina Lodovini porterà in scena Tutta Casa Letto e Chiesa e da questo evento proprio Vive il Teatro noi lanciamo come fondazione anche quello che è Un anno per Franca questo progetto che abbiamo lanciato perché non ci sembrava giusto ridurre il ricordo di Franca per i dieci anni della sua scomparsa, una giornata di commemorazione ma l'idea è stata proprio di lanciare un anno di eventi che possano continuare a ricordarla. La vicinanza tra, forse non casuale probabilmente, tra la giornata mondiale del teatro e il compleanno di Dario in particolar modo ci ha dato da subito la spinta per immaginarsi qualcosa di importante che vorremmo fare crescere sempre di più dall'anno prossimo l'anno prossimo vorremmo che fosse una vera e propria settimana lunga un pride dei teatri della città e perché no della provincia vista la vocazione anche della Capitale 24. E le connessioni fra Pesaro Capitale della Cultura e la figura di Dario Fo proiettano già lo sguardo anche al 2026. Diciamo del 2026 saranno i cento anni di Dario Fo in particolar modo e capite che sarà una ricorrenza mondiale.